Nuova era per la VL, Andrea Valli è il nuovo presidente. Giallo su madre e figlio trovati morti a Chiara Valle, lui lavorava a Pesaro. L'Università di Urbino riconosce la transizione di genere e consegna la laurea aggiornata a Francesco. Verso le elezioni, 14 candidati sindaco in solitaria faranno battaglia sul quorum. A Cagli torna la tradizionale festa della pipa. Buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV. Ben ritrovati a Rossini News, il nostro spazio informativo del canale 80, che in questa edizione di venerdì 17 maggio apriamo eccezionalmente con lo sport, perché dopo 11 anni di presidenza di Ario Costa, la VL ha un nuovo presidente. Si tratta di Andrea Valli, eletto ieri sera dopo l'assemblea del Consorzio Pesaro Basket. Parte una nuova era del basket pesarese. Andrea Valli, imprenditore e direttore amministrativo di Automotive STR, è il nuovo presidente della VL che chiude il sipario su 11 anni di presidenza di Ario Costa. Costa, che nell'assemblea del Consorzio Pesaro Basket tenutasi ieri sera presso Alpitur, ha ratificato le dimissioni dall'attuale consiglio d'amministrazione al pari di Luciano Amadori, Fabrizio Malerba e Andrea Rombaldoni. Contestualmente l'assemblea dei consorziati ha individuato con voto unanime il gruppo di imprenditori e dirigenti che siederanno nel nuovo CDA al fianco di Andrea Valli. Vale a dire Roberto Rovere di BRX e Tommaso Bertini di Edenviaggi, oltre ai riconfermati Nicola Dolci e Franco Arcesi. Valli entrò nel Consorzio Pesaro Basket nell'estate 2022 con Automotive STR che è azienda con 98 milioni di euro di fatturato dedicata a progettazione di componenti e accessori del lusso automobilistico. Da Valli al presidente del Consorzio Arceci la ferma intenzione di mettersi subito al lavoro per riportare Pesaro nella massima serie del basket. Da oggi dobbiamo riboccarci le maniche per rilanciarci, per tornare presto in a uno più forti di prima. Io sono certo che sapremo lavorare per avere il massimo di supporto e anche di unità, non solo da parte dei consorziati e degli sponsor, ma della città, delle istituzioni e del nostro grandissimo pubblico. Ed ora la cronaca. Lavorava in una banca di Pesaro Maurizio Bucciarelli, 54 anni, trovato senza vita mercoledì nella sua casa di Chiaravalle a fianco della madre Loredana Molinari di 78 anni, anch'essa deceduta. Due corpi trovati in stato di decomposizione sui quali gli inquirenti indagano per l'ipotesi di omicidio-suicidio dopo che la procura d'Orica ha aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti. Ora verrà disposta l'autopsia perché l'ipotesi dell'omicidio-suicidio viene suggerita dalla presenza di un martello a fianco dei corpi e a ferite sulla testa della donna. Si esaminerà se l'uomo possa aver ingerito qualche tipo di veleno. Ci sarebbe invece un caso di prostituzione minorile alla base dell'arresto da parte degli agenti della squadra mobile di Pesaro dell'imprenditore 74enne Augusto Bezziccheri, titolare della Isofam di Borgo Santa Maria. Secondo quanto riportato oggi dal resto del Carlino, nel 2016 l'uomo avrebbe pagato una ragazza allora sedicenne per consumare rapporti sessuali, versione poi confermata dalla donna agli agenti di polizia con le indagini che proseguono. E oggi, 17 maggio, ricorre la giornata internazionale contro omofobia e transfobia, una giornata che l'Università di Urbino ha onorato consegnando a Francesco Cicconetti la pergamena di laurea aggiornata col suo nome al maschile. Francesco è infatti un ragazzo trans che si laureò come Francesca e che ha poi affrontato un percorso di cambi d'identità sostenuto anche da una importante attività divulgativa sul tema. In occasione del 17 maggio, giornata internazionale contro l'omobitransfobia, l'Università di Urbino ha ospitato oggi Francesco Cicconetti svalicando un nuovo confine in tema di diritti e contrasto alle discriminazioni. Il riminese Francesco è infatti un ragazzo trans che ha completato un percorso di cambio d'identità. Percorso in cui nel 2018 si laureò in lingue all'Università di Urbino come Francesca durante una transizione di genere già avviata. Sei anni dopo l'Ateneo è tornato oggi ad ospitarlo con rettore e prorettore Giorgio Calcagnini e Giovanni Bocciartieri che hanno riconosciuto la cosiddetta carriera alias consegnando il diploma modificato col nome di Francesco. Sei anni in cui Cicconetti è divenuto popolare divulgatore di temi legati a vita e sensazioni di chi vive simili percorsi compresi i 200.000 follower di Instagram. Temi divenuti anche un libro dal titolo Scheletro Femmina. È andata benissimo, ho avuto sempre la mia famiglia accanto e questo è un enorme privilegio. Penso sia il privilegio più grande che mi è stato regalato perché non è scontato avere una rete familiare così solida pur nell'incomprensione perché non è che mio zio sappia per cosa significa essere un ragazzo trans non ne ha la minima idea però l'importante poi è che ci amiamo ed è il motivo per cui poi oggi posso fare divulgazione posso espormi proprio perché alle spalle ho questa rete fortissima che mi fa sentire sicuro quindi questo lo riconosco. Francesco è tornato per la prima volta oggi all'università luogo in cui attraverso i momenti cruciali del suo cambio di genere. L'università cambia le persone che ha intorno quindi ogni volta qualcuno si girava ma perché, com'è possibile che si chiami così perché non avevo ancora preso ormoni ma avevo un viso molto androgino quindi qualcuno era un po' confuso diciamo e quindi era un enorme disagio e questo influiva anche sul mio studio poi ovviamente ero meno propenso a dare gli esami però gli odatti mi sono anche laureato in tempo tra l'altro non diremo il voto però meglio non dirlo e quindi c'è questa cosa contrastante nel periodo universitario tanto affetto ma un po' turbolento essere trans e comunicarlo Cicconetti ha spiegato agli studenti la necessità della divulgazione che sta portando avanti ancora mi dicono ma donna ma ok abbiamo capito che sei trans nei commenti abbiamo capito che sei trans perché devi continuare a dirlo perché non ti fai una vita perché a parte farsi una vita è difficilissimo al giorno d'oggi penso ma perché c'è bisogno di essere visibile ancora sarà bello arrivare al momento in cui non ci sarà bisogno di parlarne e di mostrarsi però ancora oggi visti i commenti ce n'è quindi motivo per cui lo faccio e come facciamo ormai quotidianamente continua la nostra marcia di avvicinamento verso le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno ci sono infatti bene 14 comuni della provincia di Pesorobino che presenteranno un unico candidato sindaco alle elezioni non ci saranno dunque battaglie elettorali al di fuori della sfida con l'astensionismo dal voto 38 comuni pesaresi al voto per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno un terzo dei quali non avranno però sfida elettorale al di fuori della battaglia con l'astensionismo dal voto ci sono infatti 14 comuni che hanno presentato una sola lista con candidatura sindaco e consiglio comunale l'elezione dunque per reputarsi valida ha bisogno di un'affluenza alle urne che raggiunga il quorum del 40% degli aventi diritto al voto per scongiurare il commissariamento prefettizio sarà così per Tavuglia dove l'unico candidato è l'assessore uscente Patrizio Federici così come si candida il terzo mandato Enrico Rossi a Cartoceto tentativi di ricandidatura in solitare anche per Alessandro Urbini a Piobbico Romina Pierantoni a Borgo Pace Mauro Dina Lunano Daniele Tagnani a Frontone Elia Rossi a Montegrimano Terme aspira al terzo mandato anche Emanuele Petruccia a Monbaroccio che ha anticipato alcuni obiettivi della sua lista civica ancora più avanti nel segno della continuità la continuità sui lavori recupero dalla palestra comunale la continuità su quella che è la mobilità sostenibile quindi un comune che permetterà di essere percorsi in sicurezza ma nella sostenibilità di un percorso e della valorizzazione del suo territorio penso ai percorsi naturalistici, penso al Beato Sante penso al nostro santuario che potrebbe essere un oggetto e un punto di riferimento per i cammini di fede che sono un altro argomento importante sia a livello turistico che a livello culturale pensare a un comune ecosostenibile quindi in un percorso legato all'efficienza di un territorio che vada nella direzione di una riduzione di spesa ma comunque pensare all'ambiente un territorio che comincia a guardare bene al di fuori di quello che è il suo confine territoriale dei 28 km2 per continuare a condividere percorsi penso alla ciclovia che abbiamo condiviso con Pesaro e con Fano quindi tutta una promozione che ci vede coinvolti ancora più quest'anno con Pesaro 2024 che vedrà in luglio capitale anche per Monbaroccio nell'ottica di valorizzazione di Palazzo del Monte in primis e del Beato Sante poi La lista di candidati a sindaco in solitaria si allunga poi a Marzio Massi a Fratterosa Marco Marchetti a Sant'Ippolito Federica Battazia a Belforte a Lisauro Livio Tallozzi a Peglio Davide Giorgio Sorgine a Monte Cerignone e Maurizio Marotesi a Monte Felcino Ed anche questa sera parliamo di opportunità lavorative per i giovani Ieri vi abbiamo mostrato l'edizione primaverile del Career Day dell'Università di Urbino oggi ci occupiamo invece di una nuova borsa di studio per gli studenti pesaresi del Liceo Artistico Mengaroni dai banchi di scuola ad uno sguardo verso opportunità di lavoro nel mondo della fotografia facendosi le ossa con percorso formativo professionale sul campo e questa la prospettiva di una nuova borsa di studio destinata agli studenti di quarta superiore del Liceo Artistico Mengaroni nata da un'idea di Rossano Ronci fotografo pesarese con esperienza di storytelling a livello internazionale borsa di studio di 5.000 euro che sarà sostenuta dal finanziamento dell'imprenditore Lorenzo Pizza La scuola collabora con me con l'alteranza scuola lavoro e mi è venuto in mente appunto di provare a realizzare qualcosa di concreto e dare la possibilità ai ragazzi di seguire questo corso di nove mesi praticamente al di fuori della scuola questo progetto dove possono tranquillamente avere l'idea delle dinamiche lavorative al di fuori della scuola e quindi la borsa è stata istituita e l'ha finanziata un imprenditore qua di Pesaro Lorenzo Pizza che penso che in tanti conoscano Due studenti fra undici dell'indirizzo audiovisivi beneficeranno dunque della borsa di studio con nove mesi di lavoro al fianco di Ronci un lavoro già intrapreso dalla studentessa di quinta superiore di grafica pubblicitaria Virginia Druda che nell'aula magno del Liceo ha presentato la scelta del suo progetto fotografico dedicato al mondo Ultras progetto in bianconero che presto diventerà un libro dedicato alla storia del Tifo VL Tutto quello che viene realizzato all'interno della scuola, i progetti all'interno della scuola hanno delle tempistiche, gli stessi progetti al di fuori devono essere realizzati in tempi molto più rapidi quindi già solamente questo tipo di meccanismo può far capire ai ragazzi come approcciarsi e come lavorare con un professionista quindi prevalentemente è stato fatto per questo motivo perché l'alternanza scuola-lavoro è sicuramente una cosa utile poi confrontandomi con i professori ho pensato a questa cosa per dare uno stimolo in più ai ragazzi e anche per me, perché comunque è una crescita anche personale avere a che fare con i ragazzi in maniera ancora più produttiva e utile domani le telecamere di Rossini TV si accenderanno all'hotel Charlie di Pesaro in occasione di un convegno dedicato alle nuove frontiere della neurochirurgia che si terranno appunto nell'hotel di Viale Trieste dalle 9 alle 16 e 30 i 20 anni della nascita dell'unità operativa di neurochirurgia diretta dal dottor Letterio Morabito saranno infatti l'occasione per una giornata di incontro scientifico volta a fare il punto sulle tappe più significative dello sviluppo di questa disciplina alla presenza di relatori di altissimo livello domani alle 15 e 30 al campus scolastico di Pesaro sarà inaugurato Visibiglia Volontariato e Cultura un murale sul muro esterno della palestra del Bramante Genga l'installazione creata dal collettivo d'arte sociale DIMAV nasce dal progetto omonimo promosso dal CSV Marche Centro Servizi per il Volontariato ed è partecipato da numerose associazioni del territorio per rendere più visibile il valore sociale e culturale del volontariato nel contesto di Pesaro 2024 l'associazione argomenti 2000 e le ACLI di Pesaro Rubino organizzano per domenica 19 maggio alle 10 e 30 un incontro al Cinemastra di Pesaro con Marco Tarquinio direttore per 14 anni di Avvenire e candidato indipendente per la lista del PD alle elezioni europee titolo dell'appuntamento combattere la guerra, conflitti, migrazioni, povertà cambiamenti climatici, disuguaglianze dopo un'introduzione di Ernesto Preziosi presidente di Argomenti 2000 la mattinata sarà condotta da Franco Elisei presidente dell'Ordine dei giornalisti delle Marche in occasione della notte dei musei di domani il Museo Marv di Gradara sarà aperto eccezionalmente in orario serale fino alle 22 per far ammirare le opere della mostra intorno allo stato dell'arte nelle Marche Biennale d'Arte Contemporanea Premio Marche 20-23 alle 20 saranno anche presenti i curatori Andrea Carnevali e Cecilia Casadei e alcuni degli artisti che espongono per una speciale visita di approfondimento proposta al pubblico gratuitamente l'esposizione sarà un invito a scoprire espressività e stili degli artisti marchigiani e a comprendere le infinite connessioni tra astrazione e figurazione tradizione e contemporaneità da Gradara Pesaro rimanendo in tema della notte dei musei biblioteca e musei oliveriani proporranno domani in viaggio con la storia un percorso itinerante tra Pesaro e il borgo di Novilara sulle tracce dei Piceni a Pesaro 2024 capitale italiana della cultura i musei restano aperti anche di notte con la notte dei musei 2024 in programma sabato 18 maggio con un viaggio itinerante tra la storia del museo archeologico liberiano ed il castello di Novilara per il Grand Tour Musei Marche primo appuntamento in programma presso il museo alle 17.30 per poi continuare con la visita della necropoli e tanto altro ancora questo momento di conoscenza della civiltà picena che parte dai reperti conservati nel museo archeologico e i reperti della necropoli per passare poi alla scoperta o riscoperta delle case o capanna picena che sono a pochi metri dal museo archeologico per poi passare invece a una serata così anche divertente informativa e divertente e rilassante proprio nel borgo di Novilara proprio per mettere in continuo rapporto e dialogo il luogo da dove la civiltà picena ha avuto origine e fino ad arrivare chiaramente al museo dove sono conservate invece le testimonianze della civiltà picena si svolgerà una prima parte parlando dentro il museo dove andremo a vedere i reperti proprio della necropoli picena di Novilara e poi sarà soprattutto itinerante quindi una breve visita al museo ma il grosso verrà effettuato al di fuori presso il sito dove sono appunto attualmente dove sono state trovate le case o capanne picene preromane quindi andremo a riscoprire un'area archeologica dove appunto potremo vedere sia i direttamenti resti sia in un percorso a tappe vedere anche quello che sono stati gli scavi e anche come doveva essere la casa in antichità e quindi parlare proprio fare un focus su quella che è la vita dei piceni o dei preromani prima della città prima che Pesaro diventi romana quindi il primo nucleo abitativo della città di Pesaro dalla scoperta dei piceni a quella degli antichi sapori di una volta risalenti a duemila anni fa non soltanto però attraverso lo studio della storia ma anche attraverso il palato con degustazioni e momenti che porteranno a riscoprire e rigustare quegli antichi piatti ci sarà un momento in cui diciamo l'associazione Teut se non a Spisa Aurensis parlerà un po' dei banchetti che c'erano nell'antichità quindi con degli allestimenti anche con degli oggetti antichi e poi preparerà anche il formaggio proprio in diretta e quindi ci sarà questo momento secondo me molto interessante e poi parleremo anche del miele che è un diciamo un elemento della gastronomia importante anche oggi però per gli antichi era forse ancora più importante quindi ci sarà la Nicoletta Tagliabracci che parlerà un po' di questo prodotto attraverso una conferenza che che farà metteremo in piedi una pericena dei sopori antichi cercheremo di adattare alcuni prodotti alcuni cibi alla maniera antica e chiuderemo con nota al tramonto che diciamo una musica celtica attraverso l'arpa di Annalisa Cancelieri un momento interessante che insomma ci riporta un po' indietro nel tempo 450 piccoli alunni della città di Pesaro hanno salutato stamattina un altro esemplare di tartaruga caretta caretta riabilitata dai professionisti della fondazione cetacea di Reccione e liberata nelle acque del Lido Pavarotti di Baia Flaminia un momento che torna a ripetersi ormai a cadenza regolare da ottobre 2019 la tartaruga liberata oggi si chiama Nocciola a 20 anni pesa 45 kg e un carapace lungo 70 cm è stata recuperata dalla fondazione a gennaio impigliata nella reta strascico di un peschereccio a Cesenatico dopo le cure oggi ha potuto finalmente riprendere il mare e da domani torna uno degli eventi culturali più caratteristici della nostra provincia parliamo della festa della pipa di Cagli Il 17, 18 e 19 maggio Cagli è pronta ad ospitare la 24esima edizione della festa della pipa attraverso l'organizzazione del Pipa Club Italia Federazione dei Pipa Club italiani al centro della manifestazione ci saranno produttori di pipe professionisti ed obbisti che sporranno i loro esemplari e incontreranno per due giorni gli amanti del fumo lento non solo per eccellenze italiane ma anche europee conosciute in tutto il mondo come di consueto l'inaugurazione degli stand prevista per il sabato mattina alle 10 stand che rimarranno aperti fino alle 19 i produttori torneranno poi a presentare le loro pipe domenica dalle 10 alle 18 il sabato attività di approfondimento sulle gare di fumo lento di pipa con il Gran Garà ospite speciale per la prima volta alla festa della pipa sarà Savinelli 1876 l'azienda più antica d'Italia del settore che racconterà la pipa italiana nel mondo il tutto in un comune di Cagli che predisporrà percorsi artistici e museali itinerari equestri per grandi bambini passeggiate culturali con personaggi d'epoca e musica live con la cena organizzata in piazza a cura della proloco del territorio a base di prodotti tipici domenica invece la giornata inizierà con una colazione e degustazione organizzata dal Pipa Club Italia e poi dal pomeriggio lo start del ventesimo trofeo Città di Cagli gara internazionale di fumo lento ospite d'eccezione sarà Andrea Locicero soprannominato il Barone conduttore televisivo ed ex regbista grande appassionato di pipa si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti in questa serata a cominciare da quello che arriva subito dopo il telegiornale parleremo della natura della cultura magazine il nostro approfondimento dedicato ai temi di Pesaro 2024 in particolare questa sera ci occuperemo della settimana da capitale della cultura di Mondavio che inizierà da lunedì il magazine la natura della cultura vi ricordiamo va in onda in tre fasce orarie e in tre giornate quelle di lunedì mercoledì e venerdì alle 8 alle 13 e le 20 e potrete rivedere tutte e tre le puntate della settimana domani alle 12 alle 19 e domenica alle 15 e alle 21 prima serata delle venerdì che continua alle 21 con la seconda puntata della storia della Onlus Gulliver seconda puntata che sarà dedicata a scuola di riuso a seguire alle 21 e 20 spazio al ciclismo col grande evento tenutosi lo scorso weekend della Gran Fondo Squali Track tra Cattolica e Gabicce Mare una maxi edizione con 3200 partecipanti rivedremo tutto questa sera alle 21 e 20 tema che abbiamo trattato in settimana come quello che vi proporremo in uno speciale più approfondito questa sera alle 21 e 40 ovvero la visita incontro all'Università di Urbino di Fabio De Luigi popolare attore e comico che si è intrattenuto con gli studenti dell'Ateneo sul tema il comico è un lavoro serio la mia esperienza dialogo con Fabio De Luigi rivedremo tutto questa sera alle 21 e 40 e poi vi ricordo come sempre che l'informazione di Rossini TV torna puntuale domattina in diretta con la rassegna stampa Buongiorno Rossini che per l'occasione sarà condotta dal nostro Marco Cadedu a partire dalle 7.20 ed è invece tutto per questa sera si conclude qui Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi a partire